In diretta da Black Diamond Studio Noi Cardiofonic vi invitiamo a partecipare alla produzione del nostro primo album Le registrazioni sono terminate ma la strada è ancora lunga Se amate il rock e volete diventare parte integrante del nostro progetto ne avete finalmente l'occasione Ci avete sostenuto sin dalla formazione Vogliamo ricambiare la fiducia e ringraziarvi proponendovi di diventare produttori Come si fa? E' iniziata la campagna di crowdfunding e con una piccola partecipazione vi garantite un posto nell'elenco dei produttori L'album in anteprima e qualche altra cosuccia come la t-shirt o una toppa con il nostro logo O esclusivamente per chi ne fa richiesta il vinile in edizione limitata Per qualsiasi informazione seguite il link qui sotto o visitate la nostra pagina Facebook Saremo onorati di condividere questa avventura con tutti voi Stay tuned, stay rock! Saremo onorati di condividere questa avventura con il nostro progetto Saremo onorati di condividere questa avventura con il nostro progetto Saremo onorati di condividere questa avventura con il nostro progetto